rieti informazioni da india papa india charlie chilo notifica due persone simulati sganci d'emergenza charlie chilo saranno tre sganci d'emergenza cappottina chiusa e bloccata chiusa e bloccata decolliamo con l'ala a terra trim in avanti india india tango alfa whisky da india papa india charlie chilo diruttori chiusi bloccati cavo teso decolliamo con l'ala a terra 50 metri ok 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 d'accordo 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 richiamo un pochino rieti informazioni da india papa india charlie chilo due persone secondo volo sgancio d'emergenza richiede ricevuto al vento 3 2 0 1 5 l'h10 18 charlie chilo bravo india dal alfa whisky 50 metri tutto tuo mio allora cominciamo fuori il diruttore allineati vai al salista e tira su sto muso ok con il piede destro metti dentro il diruttore metti dentro ok allineati adesso li tiro fuori sul muso sul muso allineati allineati allunga un pochino sul muso vai 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 vedi fuori rieti informazioni da india papa india charlie chilo terzo ed ultimo decollo con sgancio d'emergenza e 50 metri seguito charlie chilo allora lo trimo più avanti ancora sto perché se non è salsa lo trimo più avanti ancora i diruttori escono cappottina chiusa e bloccata chiusa e bloccata india india tango alfa whisky da india papa india charlie chilo diruttori chiusi bloccati cavo teso decolliamo con l'ala a terra per se l'alto la l'alto la 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 bene inclinate e dietro il trimme un pochino si ok ok fanno lavorare tiralo su tiralo su non fatti dare over speed ok ok simulata emergenza simulata emergenza il charlie chilo per la 1 6 sinistra riede informazioni da charlie chilo in simulata emergenza per la 1 6 sinistra ok non sbloccare non li sbloccavo ok non avevo capito hai detto non come sembrava che sia la terra di calma 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 che mo ci arriviamo e non ti arrabbiare non ti arrabbiare che mo ci arriviamo ma se vede risulta cosa meglio ok va bene ma allora e se non lo usiamo a pezzi l'opportunità giusto sei fuori visto sì sì e adesso mi c'è mi c'è lì prima di avvicinare ok d'accordo così vai dritto così ancora vai dritto ok e visto piede destro ok fermo qua metti dentro e fermo qui non muovi più guarda che sei in là a sinistra ecco piede destro piede destro ma anche la parra sì ok che trusta è